Le penne nere della provincia di Teramo si danno appuntamento a Cermignano per un raduno alpini della nona zona Teramo. L'evento è organizzato dall'ANA, sezione Abruzzi, gruppo alpini Cermignano e gruppo alpini Teramo. La due giorni si prefigge di commemorare i caduti e i luoghi della grande guerra affinché la memoria viva nelle nuove generazioni. Questa è stata pensata, questo raduno, diciamo tre anni fa, quando il capogruppo degli alpini di Cermignano mi ha proposto, appunto in occasione del centenario della fine della grande guerra, di poter ospitare a Cermignano il raduno provinciale che ogni anno si fa in una zona della provincia di Teramo. E quindi sono stato ben felice di sposare questa idea e siamo riusciti, col contributo un po' di tutti, di organizzare questa manifestazione. Vorrei ricordare Felice Misantone, che è un alpino che è venuto a mancare l'altro ieri, che è stato il fautore, il promotore di questa adunanza, avutasi dopo circa 60 anni dalla prima.